La Regione Campania ha approvato una nuova misura per rilanciare l'occupazione a tempo indeterminato dei lavoratori di qualsiasi età, un incentivo economico pari ad uno sgravio contributivo fino al 100%. È stato introdotto un incentivo di natura economica che estende l'esonero contributivo del 40%, stabilito dal governo Renzi nella legge di stabilità 2016, con un incentivo economico del 60% fino alla decontribuzione totale. La misura non è per tutte le assunzioni, ma è destinata all'assunzione di lavoratori rientranti tra i disabili, gli svantaggiati e i molto svantaggiati. Le imprese che assumono in Campania un lavoratore di qualsiasi età a tempo indeterminato possono beneficiare del 40% di sconto sui contributi di provenienza nazionale e di questo ulteriore sconto del 60% di provenienza dalla Regione Campania. Intanto, dopo anni di crisi e spending review, il settore delle assunzioni nella nostra Regione si muove. Nuove opportunità nella provincia di Salerno con l'apertura del centro commerciale La Fabbrica, prevista per il prossimo 2017, dove sono stati annunciati circa 300 posti di lavoro. Nuove numerose opportunità di lavoro nel settore dei trasporti marittimi con Grimaldi Lines, la nota società di navigazione del gruppo Grimaldi, aggiungerà nuove rotte per la Sardegna e prevede ben 1600 assunzioni sulle navi e nel personale di terra. A Pompei, infine, il centro commerciale Ocean non chiude, anzi si rinnova e sfida la crisi. Nessun licenziamento, apertura di nuovi reparti, il che significa nuove assunzioni e nuovi posti di lavoro. Lo storico ipermercato di Pompei ha festeggiato il suo ammodernamento alla presenza del sindaco Ferdinando Uliano e del direttore dell'ipermercato Marino Pizzo. Taglio del nastro e una grande torta per festeggiare. Per l'occasione offerta la colazione a tutti i presenti. Devecto Ancilla Pizzo